Salito sul tetto del liceo musicale Bellini di Catania e si è portato dietro una bottiglia con dentro della benzina. Alfio Laspina, 35 anni, padre di un bambino, ha deciso di rimanere seduto per tre ore a questa altezza minacciandogli darsi fuoco. Da oltre un mese è senza uno stipendio. Lui è tra i 14 custodi e collaboratori del liceo musicale Bellini il cui contratto è stato trasferito ad una ditta campana. Intanto sotto in strada decine di vigili del fuoco, polizia, mentre a pochi metri da lui gli uomini della Digos tentano di convincerlo a scendere. Alfio Laspina è disperato, continua a passeggiare avanti e indietro per ore fin quando qualcuno riesce a bloccarlo. Lo convince a scendere solo allora, è salvo. Con la gru dei vigili del fuoco viene riportato giù, lo hanno bloccato per paura che possa lanciarsi nel vuoto, ma è salvo. Alfio Laspina è uno dei 12 lavoratori su 14 che ha scelto di non firmare il nuovo contratto avviando le procedure legali a fronte di un accordo di tipo privato, dicono dal sindacato, e malgrado siano dipendenti pubblici senza contare che il nuovo contratto prevede la riduzione delle ore notturne, come spiega anche Franco Tomasello, segretario provinciale unico, basta salito sul tetto per convincere a scendere Alfio Laspina. Era disperato Alfio Laspina, ha un mutuo sulle spalle, ha una condizione particolare, allora non si può qui pensare che si sta scatenando una guerra tra poveri. I tempi della giustizia, i tempi della legalità non coincidono più in questo paese con i tempi della fame e del lavoro di questa gente. Alfio Laspina stamattina era disperato, senza uno stipendio, non ce l'ha fatta più.